LULU A S M A E ho voluto provare ad utilizzare questo tipo di tela per provare cose nuove All'inizio ero partita con un'idea, ossia visto che la tela è tonda volevo ricreare l'occhio di Allah L'occhio di Allah praticamente è un occhio azzurro, non so se vi è capitato di vederlo, magari si Però non tutti sanno che si chiama in questo modo, praticamente ha la funzione di proteggere la casa, allontanare le negatività e quant'altro Insomma, il genere è questo, però dopo ho cambiato idea Io ho riprodotto invece un volto su questa tela, ve lo mostro subito Innanzitutto ve lo faccio vedere, questo è il dietro, non vi spaventate Vedete che tonda Questa è la grandezza E adesso la giro Ecco qua Perché Sandokan? Perché fin da bambina sono sempre stata innamorata di questo personaggio E quindi ho voluto riprodurlo un po' Perché mi piace tantissimo e sono un'appassionata E un po' per allenarmi sui ritratti Perché non è semplice dopo tanti anni che magari Non faccio delle cose, perdo un po' la mano giustamente Sapete bene che non mi piace mostrare le cose perfette Ma quelle che riesco a fare, insomma Come sempre e come tutte quelle che vi ho mostrato finora Non sono complete perché manca la firma Manca la rifinitura finale Praticamente Nel senso che Come vedete qui C'è il bordo colorato Come il fondo della tela Cosa che di solito lascio per ultima Però questa l'ho portata un po' più avanti Ma la mia idea È quella di Mettere intorno qui Qualcosa per appellirlo un attimino Ma Non ho ancora pensato a cosa Adesso ve lo mostro piano piano Che dire Sandokan È un personaggio famosissimo È forse uno dei primi film che ricordo Da quando sono nata Forse il primo film che ho visto Diciamo La prima serie Se così vogliamo chiamarla Poi vabbè Secondo me Capir Bedi Poi è uno degli uomini più affascinanti Che esistono A mio gusto Ma anche col passare del tempo Cerco di farvelo vedere un pochino meglio Questa tela si può appendere semplicemente così Con un chiodino Poi si attacca il chiodino alla parete Si aggancia così Anche un chiodo normale Allora Partiamo subito Con lo spiegarvi alcune cose Questo quadro è interamente fatto con colori acrilici Con i quali io mi trovo veramente benissimo Aterriscono bene su ogni superficie E non sono molto sfumabili Però per l'utilizzo che ne faccio io Vanno più che bene Dunque Diciamo che Sono partita da un fondo verde scuro Perché volevo rappresentarlo E visto che il suo film era ambientato in Malesia Diciamo nella foresta Purtroppo non c'era molto spazio per fare delle piante E per adesso Dico per adesso L'ho lasciato così Poi Che turbante Per questo ho utilizzato di colori Molto caldi Che contrastano col verde dietro Quindi un arancio Un arancio più scuro Un arancio un po' più chiaro Per fare le varie pieghe Poi Ho utilizzato un rosso scuro Per fare questa fascia Che ha il collo Anche qui Con qualche piega Poi Un po' più giù Si intravede Una piccola triscia celeste E la maglia che aveva di sotto O la camicia Adesso non ricordo Comunque Ho voluto creare un contrasto di colori Caldi e freddi Per dare più espressione A questo quadretto Poi I capelli Dal video Non si vede benissimo Ma ci sono dei riflessi castani Qui Tra i capelli Che sembrano Totalmente neri Anche da questa parte Vediamo se avvicinando Riuscite a vedere un pochino Elle Poi Qui abbiamo la barba Ho fatto un po' di fatica Ho fatto un po' di fatica Vi dico la verità A crearla Perché ho dovuto utilizzare Un pennellino Veramente Molto molto piccolino A parte il fatto che Ricreare il viso Non è stato per nulla semplice Dopo anni e anni Che non facevo ritratti Per fare il volto Ho utilizzato diversi tipi Di colori Nel senso che ho dovuto miscelare Vari colori Per creare il colore carne Poi abbastanza scuro Perché lui Essendo indiano Una carnagione tipicamente olivastra Quindi Non è stato semplice E poi Ho ricreato Dei riflessi più chiari Per mettere in rilievo Le parti più pronunciate Del volto Vedete anche gli zigomi E un po' anche sulle labbra Anche sul naso E qui un po' sulla fronte Il tapping sulla tela Mi ricorda il suono Della pioggia E lo trovo Molto molto rilassante Ecco amici Questo è Sandokan Qui Ho ricreato anche la scritta Con questo carattere un po' particolare Un po' dell'epoca E Anche quelli che usavano una volta Nelle lugandine dei film Quando c'erano Questi film di avventura Un carattere un po' piratesco E L'ho ricoperta di foglia oro E adesso purtroppo La luce non è il massimo Comunque Contrasta tantissimo Con i colori Fermi Del quadretto stesso Vedete È un quadro abbastanza statico Con dei colori accesi Contrastanti E poi La particolarità È questa scritta Che riflette il dorato Tantissimo Con la luce La cosa Di cui sono contenta E che mi piace molto È lo sguardo Non è facile ricreare Degli sguardi profondi Ovviamente bisogna essere Veramente degli artisti E io non ritengo di esserlo Ma sono una dilettante Diciamo Mi diletto un po' Ci provo Faccio esperimenti Faccio quello che mi viene in mente Di fare Con le mie piccole capacità Perché Come vi ho detto più volte Non ho fatto il liceo artistico E quindi Tutto quello che faccio Viene da me Da quello che Imparo Guardando Seguendo dei tutorial Osservando tantissimo E facendo esperimenti Con diversi colori Diversi pennelli Insomma Quando uno è appassionato Le cose Le approfondisce Diciamo E appunto Che stavo dicendo Lo sguardo Mi piace tantissimo Gli occhi Li ho fatti Di questo verde Molto Chiaro E un verde Quasi giallo Come Gli occhi Delle tigri Resterò sempre Innamorata Di questo personaggio Ha segnato L'inizio Della mia infanzia E Non lo so Penso di farne altri Riguardo Personaggi Che mi piacciono Tantissimo E che Mi ricordano Appunto I bei tempi Quando Ero piccolina Ero piccolina Tempi che Adesso sono cambiati Tantissimo Come tutti sappiamo Però Non bisogna E niente E niente amici Poi va a gusti Io ho provato A farla qui E mi piace molto La resa Questa tela Non so Non so se andrò A fare altre Rifinizioni Su questo quadro Inizialmente Avevo pensato Di mettere Dei brillantini Solo sul fondo Però secondo me Distoglierebbero L'attenzione Dal personaggio Che è lui Quindi Lo sfondo Lo lascerei Un po' anonimo E darei In primo piano Lui Che ne pensate Fatemi sapere Per chiunque Fosse interessato Mi contatti Privatamente Su Instagram Ancora una volta Vi ringrazio Tantissimo Per avermi seguito Io e Sandro Vi mandiamo Braccio Grandissimo E a presto Ciao